federica pellegrini sta per diventare mamma ormai manca sempre meno alla nascita della prima figlia che aspetta dal marito matteo giunta in attesa del parto la campionessa olimpica di nuoto sta condividendo sui social numerosi scatti della sua gravidanza ricevendo però anche alcune critiche l'ultima quella di un follower che l'ha attaccata per la sua bellezza commentando sotto una foto in bianco e nero scattata un anno fa uno degli ultimi post di federica pellegrini su instagram è una foto risalente a un anno fa che la ritrae in bianco e nero con indosso un maglione natalizio la futura mamma che all'epoca non aveva ancora annunciato la gravidanza posa sorridente davanti all'obiettivo della macchina fotografica e come didascalia scrive un anno fa sotto lo scatto sono comparsi diversi commenti da parte dei follower come chi le augura un sereno natale ma anche alcune critiche in una in particolare si legge vista all'ivigno sinceramente ne ho viste di più belle si tratta di un attacco al suo aspetto fisico da parte di un utente che l'ha incontrata di persona pellegrini ha deciso di rispondere e quindi mica mi sono iscritta a miss italia mostrandosi quindi disinteressata al commento riguardante la sua bellezza manca sempre meno al parto di federica pellegrini la campionessa di nuoto ha fatto sapere che la prima figlia con il marito matteo giunta nascerà a dicembre anche se non ha specificato la data con precisione circa una settimana fa poi in collegamento con fiorello a viva rai 2 ha raccontato che vorrebbe far nascere la piccola in acqua sarebbe stupendo la bimba nasce e fa già il record aveva ironizzato il noto showman pellegrini però ha qualche paura anche se non intende rinunciare all'idea la vedo un po più complicata da quello che mi hanno spiegato la vedo un po più complessa